Scorpione carissimi il titolo di re dello zodiaco questa settimana va di diritto al vostro segno mercurio è appunto in vostra compagnia venere giove avete una luna meravigliosa lunedì martedì sabato e domenica quindi è il momento anche di tirare fuori i sogni dai cassetti e realizzarli perché avete sponsorizzazioni astrali di tutto rispetto se cercate un lavoro proponetevi magari anche inventatevi qualcosa con l'aiuto del mondo web se volete agganciare la tale persona entrare nella tale cerchia questa è una settimana in cui potete farcela mercoledì giovedì e venerdì però vi gireranno gli zbedei come frullatori anche per delle stupidaggini anche in amore non fatelo perché l'amore è comunque più che favorito per quanto la fornicazione sia un po insipidina e bisogna salarla